10 5 4 3 2 1 Vai 100 al cartello Ritarda fuoco Occhio interno Sinistra 4 Più più Lunga chiude E Destra 2 Apre 6 Lunga Per dosso Sinistra 4 Più più Sfiora tieni E attenzione Dosso dritto Destra 2 Taglia Per sforgo Sinistra 2 Più 40 Destra 3 Meno meno E apre 5 Intornante sinistro E ritarda Destra 2 Più più Per sinistra 6 40 Destra 4 Più Allarga 50 Tieni sinistra Per destra 5 Meno lunga Chiude Stringe molto In sinistra 4 100 Sinistra 5 Chiude Subito 4 Più Lunga Lunga 50 Attenzione Dosso in destra 5 Chiude Stringe In sinistra 6 In attenzione Destra 2 Più più Rotaria 40 Dosso lungo Dritto 20 Anticipa Sinistra 4 Chiude Stringe 70 70 Dosso per destra 5 Per non tagliare Sinistra 3 Corta Per 6 30 Ritarda poco Destra 4 Più più Lunga Chiude Lunga 40 Sinistra 4 Meno meno Lunga 50 Bivio In sinistra 2 Meno Per non tagliare Destra 2 Più più 20 Ritarda poco Sinistra 3 Al bianco 80 Dosso dritto E destra 5 Più più 100 Sinistra 6 Esce su Dosso dritto 100 Vieni destra Per Shikani 40 Destra 6 40 Dosso in destra 5 Più più Stesso tempo 30 Dosso dritto 80 Sinistra 6 100 Al triangolo Bivio in destra 2 Più E apre 4 Per sinistra 2 Lunga E ritarda Tornante destro Ampio 30 Sinistra 4 Più più 40 Anticipa Sinistra 3 Più lunga Per destra 6 Sinistra 6 Per attenzione Anticipa Destra 4 E apre 5 Lunga Chiude 4 Porta al palo 100 Anticipa Taglia mezzo Sinistra 4 Più Succemento Esce su Dosso lungo Dritto Attenzione Al filo 20 Bivio in destra 2 Cerotto 80 Allo spigolo Non tagliare Destra 4 Più E apre 6 50 Al palo Anticipa Sfiora Destra 6 Per sinistra 6 30 Rotto Stringe Chiude 5 50 Dosso lungo Dritto E sinistra 6 60 Attenzione Non si vede Dosso per sinistra 4 Taglia Stringe 50 Dosso in destra 4 Corta 50 Dosso in destra 4 Media 30 Sinistra 5 Chiude 4 La chiesa Per dosso in destra 4 Più più lunga Luca Stringe 50 Destra 6 Per molto attenzione Dosso in sinistra 3 Più più Dietro la siepe 50 Destra 6 E dosso lungo Su sinistra 6 30 Attenzione Dosso in destra 4 Più più lunga E dosso in sinistra 6 30 Taglia Destra 4 Corta Per sinistra 5 Lunga Su dosso 20 Molta attenzione Destra 4 Meno Luca Su dosi 30 Ritardo a poco Sinistra 3 Più taglia Per destra 5 50 Anticipa Sfora Sinistra 4 Più più 30 Destra 3 Meno Chiude Stringe 50 Tieni sinistra Per salto In destra 5 50 Destra 2 Più E sinistra 3 100 Anticipa Destra 5 Media 100 Su dosso Dritto Tieni sinistra Destra 6 E sinistra 5 40 Ritardo a poco Destra 3 Più più Chiude Per sinistra 6 Lunga Lunga Attenzione Chiude 3 50 Dosso Lunghezza 100 In sinistra 50 Bivio In destra 2 Al bianco 60 Tieni sinistra Per dosso In sinistra 6 80 Tieni sinistra Per destra 6 A fine muro 50 Rotto Anticipa Sinistra 4 Chiude 40 Anticipa Sinistra 4 Più più Destra 5 Media Chiude 100 Destra 6 50 Tieni destra Per Shikhan 100 Anticipa Sinistra 5 In subito Destra 4 Più lunga Chiude 4 Meno Rail E apre Intornante sinistro 100 Sinistra 6 Per destra 6 100 Stesso tempo di primo